... Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con un'ampia pagina dedicata alla scuola perché a cinque giorni dal suono della prima campanella i sindacati esprimono preoccupazione per il trasporto degli studenti ok invece il fronte delle vaccinazioni Paolo Renzetti Segretario ci siamo a questo punto il 13 settembre riapriranno le scuole in Abruzzo tutte in presenza, non ci sarà nessun posticipo si inizierà secondo calendario l'Abruzzo è una delle prime regioni per le vaccinazioni del personale scolastico l'Abruzzo sta andando bene anche per le vaccinazioni della popolazione scolastica degli alunni tra i 12 e i 19 anni quindi i numeri stanno salendo siamo sopra già il 60% e vogliamo in qualche modo anche con l'inizio della scuola continuare nel sensibilizzare gli alunni alla vaccinazione Gli autobus che dovranno portare i ragazzi a scuola si partirà da questa percentuale dell'80% ma si è pronti da questo punto di vista voi che notizie avete? Assolutamente no perché purtroppo la regione anche al tavolo regionale per la sicurezza la riunione c'è stata giovedì della scorsa settimana ha evidenziato che sì c'è stato un potenziamento ma è una percentuale molto bassa rispetto al numero di corse l'innalzamento della percentuale di riempimento all'80% deve essere accompagnato dall'innalzamento del numero di corse da un lato e soprattutto per quello che abbiamo noi evidenziato dalla presenza dei controllori sugli autobus perché lì è il grosso problema mentre nelle scuole gli insegnanti, il personale vigila sul rispetto delle regole la mascherina, il distanziamento e così via dentro gli autobus ci saranno più persone e non vigilate prima dell'ingresso a scuola, dopo l'ingresso a scuola nei terminal e così via non ci possono essere centinaia, migliaia di ragazzi non controllati il green pass per il personale docente, non docente da questo punto di vista c'è stata qualche polemica anche nelle scorse settimane a livello nazionale, in Abruzzo qual è la situazione? No, in Abruzzo la situazione, dicevole la percentuale dei vaccinati è molto alta qui parliamo a regime per il 13 supereremo abbondantemente il 95% se aggiungiamo a questi diesentati si capisce bene che la percentuale è molto molto elevata pochi casi di persone che devono ancora definire la propria condizione medica per l'esenzione perché sono condizioni a rischio condizioni di salute a rischio per la vaccinazione abbiamo veramente scarsissime segnalazioni di persone che in qualche modo vogliono sottrarsi ai vaccini e stanno per il momento andando avanti con i green pass derivanti dai tamponi periodici ogni due giorni e a Teramo si prevede un rientro scolastico difficile pieno di turbolenze a protestare sono i docenti e gli studenti di alcune scuole che a causa di criticità sismiche hanno sedi frammentate il presidente della provincia di Teramo ricorda le difficoltà che il capoluogo terremotato sta vivendo in questi anni e considera già un miracolo che tutti gli alunni delle superiori potranno rientrare regolarmente in classi sicure Tania Bonnici Castelli l'anno scolastico a Teramo riparte con qualche turbolenza un rientro complicato dovuto soprattutto alla delocalizzazione di alcune scuole superiori forzatamente smembrate per criticità sismiche nel caso dell'istituto professionale Alessandrini Marino frammentato in più sedi in attesa da anni di una sede unica uno spezzatino che docenti, studenti e genitori non sono più disposti ad accettare e così si scende in piazza per protestare e chiedere di poter occupare le aule dell'adiacente liceo scientifico Einstein e magari delocalizzare quest'ultimo riunendolo nella sede dell'ex comi sono ormai 4 anni questo sarebbe il quinto in cui purtroppo non avendo più una sede definitiva perché l'Ipsi è stato chiuso a causa del sisma diciamo dell'agosto del 2016 e quindi definitivamente ho poi chiuso a un'aula che avevamo ristrutturato nel 2017 e siamo stati sparpagliati in soluzioni transitorie provvisorie da 4 anni cosa chiedete? chiediamo una situazione che sia giusta per tenere i ragazzi vicini ai laboratori perché ovviamente questa situazione di abbiamo chiamato noi spezzatino purtroppo ci impedisce di avere le ore giuste vicine ai laboratori che sono lontani e quindi i ragazzi ovviamente devono fare perché i ragazzi professionali devono fare oltre al fatto che ovviamente c'è un discorso anche legato a quella che è tutta l'armonia anche proprio dell'Istituto Alessandrini Marino in una affollata riunione nella sala consigliare della provincia di Teramo alla presenza di presidi del direttore dell'ufficio scolastico provinciale e di tecnici il presidente della provincia Diego di Bonaventura ha tuonato contro queste proteste ritenendole inutili discussioni sul nulla visto la situazione attuale che vive il capoluogo Teramano città terremotata dal doppio cratere sismico è già un miracolo che 500 all'unni possano rientrare regolarmente in classi sicure non abbiamo problemi di classi di spazi non ce li abbiamo veramente io comprendo solamente e accetto lo sfogo anche gli insulti mi ho fatto sempre una carriera l'ascolto anche quando avevo ragione degli insegnanti dei genitori e degli alunni perciò non capisco quello che sta accadendo vi ricordo che ha ministro da due anni e qualcuno si dimentica sulla provincia un anno abbiamo avuto un blocco se ne siamo già scordati il lockdown non lo siete scordati tutti quanti? oggi dobbiamo solamente capire come organizzarsi per quest'anno sapendo che la ricostruzione parte veramente nel 2022 di tre edifici e se oggi discutiamo per il nulla lo dico ai dirigenti autorevoli che vedo qui dentro che facciamo l'anno prossimo? che parte della ricostruzione dobbiamo delocalizzare 500 alunni? e anche Montesilvano si prepara alla riapertura delle scuole per far fronte alla carenza di spazi verranno allestiti dei container dove si terranno le lezioni Giuseppe Dintino si avvicina il 13 settembre giorno in cui gli studenti abruzzesi torneranno sui banchi di scuola a Montesilvano è tutto pronto ha dichiarato il sindaco De Martinis tutto rientrerà alla normalità e tutto sarà in qualche caso anche migliore di quello che è stato il passato per quello che riguarda anche il trasporto è tutto organizzato quindi ritengo che tutto vada per il meglio il distanziamento sociale imposto come misura anti-covid ha acuito la carenza di spazi all'interno degli istituti scolastici come nell'anno passato per alcuni studenti di Montesilvano i primi 15 giorni di lezione si svolgeranno al Paladin Martin dove l'hub vaccinale chiuderà il 9 settembre rimanendo aperto solo per i richiami del vaccino poi però in accordo con presidi e genitori gli studenti torneranno nei pressi delle scuole in appositi container che fungeranno da aule Già dallo scorso anno a causa del covid abbiamo dovuto trovare delle soluzioni che potessero superare appunto le prescrizioni legate alle distanze a tutto quello che riguarda insomma questa pandemia e l'anno scorso abbiamo trovato soluzioni alternative in quelle del Paladin Martin per quello che riguarda l'istituto Ignazio Silone quest'anno d'accordo con il dirigente scolastico ma anche con i genitori abbiamo ragionato l'allestimento di container per riportare gli studenti insomma nella loro sede naturale in via San Gottardo in strutture che comunque garantiranno insomma tutto quello che necessita ai ragazzi ma c'è anche una novità in positivo che riguarderà la scuola di via Reno che dopo una fase iniziale 15 giorni di permanenza nella vecchia sede si sposterà in quello di Viad per quello che riguarda le alte strutture diciamo che tutto sommato siamo messi bene quindi diciamo che se devo guardare il bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto lo vedo mezzo pieno lutto nel mondo della politica abruzzese è morto infatti la scorsa notte all'età di 68 anni Luciano La Penna sindaco di Vasto per due mandati consecutivi dal 2006 al 2016 esponente di spicco del centro-sinistra abruzzese e presidente del Lanci Abruzzo dal 2014 al 2019 da tempo La Penna era malato messaggi sono arrivati dall'intero mondo della politica abruzzese esprimo il mio profondo cordoglio ha dichiarato il presidente della regione Marco Marsiglio di lui rimarrà il ricordo dell'impegno politico che per tanti anni ha profuso per la promozione e la difesa del territorio abruzzese a nome mio personale dell'intera giunta porgo le più sentite condoglianze ai familiari il partito democratico abruzzese si unisce al dolore della famiglia dei cari degli amici dei tanti della comunità che hanno apprezzato le doti umane e politiche di Luciano La Penna sindaco di Vasto consigliere regionale e tanto altro soprattutto esempio e punto di riferimento nella vita e nelle istituzioni ne sentiremo conclude la nota del partito democratico abruzzese per sempre la mancanza al via nuovi lavori all'ospedale covid di Pescara al momento però non è previsto alcun aumento di posto l'ASL monitora la situazione contagio in vista dell'apertura delle scuole dottor Caponetti ci sono lavori che sono in atto proprio in queste ore al covid ospita all'estate ulteriormente migliorando la struttura soprattutto nei primi piani certo noi avevamo ancora tre piani da completare abbiamo ricevuto i finanziamenti e quindi completeremo anche questi piani quindi tutti e sette i piani del cosiddetto Palazzo Rosso saranno aggiornati nuovi e utilizzabili per l'ospedale in base a questo è ipotizzabile se non oggi più avanti un aumento di posti letto qualora dovesse essere necessario beh quelle strutture che andiamo a realizzare sono pluripotenti nel senso che all'occorrenza possiamo trasformarli anche in posti covid se fosse necessario l'idea è quella di utilizzarle per altri reparti che pian piano trasferiremo dal monoblocco qui in modo da dare più respiro al monoblocco a proposito di covid i dati delle ultime ore sono dati abbastanza rassicuranti sia per quanto concerne i positivi i ricoveri anche le persone che si trovano in terapia intensiva sì i dati è un andamento stabile in questo momento abbiamo circa una trentina di positivi ogni giorno e poi abbiamo circa oggi 27 ricoverati di questi due sono in rianimazione gran parte dei ricoverati sono persone non vaccinate quindi da qui il solito sollecito a vaccinarsi perché le persone vaccinate anche se contraggono il covid hanno una sintomatologia quasi insignificante l'estate è finita tra meno di una settimana apriranno le scuole insomma volendo fare qualche previsione per i prossimi giorni insomma questa riapertura in presenza delle scuole potrebbe creare qualche problema c'è qualche preoccupazione da questo punto di vista beh preoccupazione c'è non fosse altro perché ripensiamo a quello che è successo l'anno scorso l'estate era andata molto bene poi invece con la riapertura delle scuole si è scatenato l'inferno quest'anno dovremmo essere più protetti dalla vaccinazione che almeno per quanto riguarda gli individui adulti siamo in attesa e stiamo armandoci da un certo punto di vista speriamo che le cose vadano meglio dell'anno scorso ripeto abbiamo degli elementi oggettivi per pensare che così sia a proposito di covid leggiamo i numeri odierni perché sono 70 i nuovi casi positivi registrati oggi nella nostra regione di età compresa tra 1 e 83 anni nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2238 tamponi molecolari e 4597 test antigenici tasso di positività è pari all'1,02% il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.534 gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2.164 83 pazienti numero invariato rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica 6 più 2 rispetto a ieri con 2 nuovi ingressi in terapia intensiva mentre gli altri 2.075 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL vediamo i cambiamenti di numeri provincia per provincia più 16 nuovi contagi in provincia dell'Aquila più 17 in provincia di Chieti più 2 in provincia di Peschiara più 41 in provincia di Teramo ampiamente la più colpita 654 sono persone fuori regione con un decremento di 3 unità e 119 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza e cambiamo argomento adesso sono tornati a manifestare davanti ai cancelli dello stabilimento Brioni di Penne lavoratori sindacati ed RSU dopo la decisione presa da parte dell'azienda di non rispettare l'accordo firmato ad aprile presso il Ministero dello Sviluppo Economico Stefano Recanati noi non firmeremo mai una mobilità forzata né oggi né in seguito puntano dritti verso l'obiettivo di salvare quanti più posti di lavoro possibile nei tre stabilimenti dell'area vestina per questo le sigle sindacali e le RSU degli stabilimenti Roma Style di Penne Montebello di Bertone Civitella hanno organizzato per la giornata di oggi un presidio di protesta che ha visto dalle prime ore della giornata anche una rappresentanza nutrita di lavoratori alcuni giorni fa i vertici aziendali avevano comunicato l'avvio della procedura di chiusura delle produzioni di maglieria e camiceria scatenando la protesta di sindacati e lavoratori i quali accusano la stessa di non aver rispettato l'accordo sottoscritto il 13 aprile presso il Ministero dello Sviluppo Economico Questa è un'avvertenza difficilissima oggi l'azienda non sta rispettando l'accordo fatto ad aprile e di fatto in questo modo è andata a mettere nel 321 esuberi queste persone di questi due reparti saranno delle uscite forzate quindi non condivise con i sindacati Intanto nella giornata di domani è previsto un nuovo incontro tra sindacati RSU Azienda e Regione Abruzzo con l'assessore Pietro Quaresimale è pronto a chiedere ai ministeri di chiarire una volta per tutte i termini della situazione Si sono delle dichiarazioni ufficiali questa volta noi vogliamo che l'azienda realmente ci dica qual è il suo obiettivo e qual è la sua strategia e qual è il suo piano industriale ma con i fatti non più con dichiarazioni che dopo vengono smentite questa situazione ci ha messo in grave difficoltà ha messo in difficoltà un intero territorio perché non stiamo parlando solo delle 70 persone del reparto Maglieria ma stiamo parlando che questa situazione può essere si può ripetere anche per altri reparti La salary review riguarda una parte dei lavoratori a cui per esempio ad aprile si sono dati premi per obiettivi per target non so quali target abbiano potuto raggiungere e aumenti della RAL cioè della retribuzione annua lorda poi c'è la grossa fetta dei lavoratori circa 900 dove invece si fa la spending review cioè si taglia il salario il numero delle ore si toglie i premi e questo non è che stiamo parlando di briciole ma se stiamo parlando del taglio dell'orario di lavoro del 2016 più l'eliminazione del premio del 2020 sono circa 5 mila euro in meno su una base di circa 20 mila euro quindi stiamo parlando di persone su cui si taglia il salario mentre su altri si aumenta questa è una cosa inaccettabile e le persone dovrebbero essere arrabbiate con questa azienda perché questa gestione sinceramente non è condivisibile In Abruzzo terminata la stagione dei saldi bilancio positivo secondo Confesercenti per cui è stato importante l'apporto dei turisti Settembre porta via i saldi in Abruzzo dopo mesi e mesi di restrizioni chiusure e sacrifici questa stagione di acquisti era parecchio attesa dai commercianti e dagli esercenti della nostra regione il bilancio dei consumi nel complesso è positivo secondo Confesercenti Ci aspettavamo insomma un dato che riportasse un pochettino il sorriso degli esercenti e così è stato grazie a un turismo importante numericamente importante l'attività dei saldi che era partita in sordina all'inizio di luglio è diventata un'attività che ha portato un buon risultato che tutti i commercianti attendevano La ripresa del commercio è stata data più dai turisti che dai residenti e quindi ne hanno goduto maggiormente le città che si propongono come meta dei visitatori dopo il boom dell'online speriamo che si torni a frequentare i negozi ha detto al TG6 il direttore Tauci Sicuramente questo è un dato che ha favorito soprattutto la città di Pescara che ha avuto una presenza importante un po' diversa è stata la situazione nelle altre città e negli altri luoghi però il dato finale è stato un dato che ripeto ha riportato un po' l'ottica degli anni passati rispetto a quello che era accaduto anche l'anno scorso con tante titubanze ci aspettiamo che il commercio ricominci ad avere una normalità facendo sì che il soprattutto il residente ricominci a utilizzare i vecchi sistemi di acquisto e quindi frequentare molto di più i negozi presenti in città anche perché significa mantenere forte e salda un'economia locale dopo Montorio Alvomano anche il comune di Teramo si mobilita per l'accoglienza dei profughi afghani giunti in Abruzzo a fine agosto l'amministrazione d'Alberto è alla ricerca di abitazioni da destinare ai rifugiati mentre l'associazione Casa del Popolo inizia una raccolta di beni di prima necessità tra i 1360 profughi afghani fuggiti da Kabul 460 sono minori tra cui 320 sotto i 12 anni 6 i ragazzi non accompagnati attualmente in Abruzzo sono ospitati 217 bambini 850 il totale dei rifugiati giunti nel centro di prima accoglienza e smestamento allestito a fine agosto dalla Croce Rossa e dalla protezione civile nell'interporto di Avezzano il comune di Montorio Alvomano è stato il primo ad accogliere circa 46 profughi ma è tutta la provincia teramana che è mobilitata per assicurare agli afghani sostegno e abitazioni Teramo comune capoluogo si sta muovendo in questa direzione dobbiamo capire quante e quali saranno le persone che resteranno sul territorio della provincia di Teramo al momento sono ospitate in alcune strutture in diretto contatto con la protezione civile è chiaro che quindi questo è il primo aspetto noi utilizzeremo il nostro sistema SAI SPRAR però insomma abbiamo la necessità di capire quante saranno queste famiglie che dovranno essere accolte nell'ambito di un sistema che è quello dello SPRAR che consente un'accoglienza diffusa una integrazione anche tenuto conto appunto della tipologia anche di accoglienza che riguarda delle figure che hanno lo status di rifugiati politici l'accoglienza migliore per questa tipologia di famiglie è proprio quella degli appartamenti perché comunque è necessario intanto ospitare le famiglie nel loro insieme nel loro complesso un'accoglienza diffusa che appunto faciliti anche soprattutto l'integrazione diciamo siamo ancora in una situazione di emergenziale di gestione emergenziale ma ci stiamo attrezzando appunto come comuni con il coordinamento ovviamente della prefettura e di tutti gli attori istituzionali per poter definire un'accoglienza che sia la più adeguata possibile per le famiglie afghane intanto l'associazione Casa del Popolo di Teramo ha iniziato una raccolta di beni essenziali per tutte le persone in fuga dalla guerra in Afghanistan e rifugiate nella nostra provincia i beni che verranno raccolti nella sede di via Nazario Sauro 52 a Teramo saranno prodotti per l'igiene personale farmaci da banco intimo nuovo da uomo donna e bambino trolley e valigie in buone condizioni prendiamo adesso di elezioni amministrative sono sei le liste civiche che supportano la candidatura a sindaco di Roseto degli Abruzzi di Mario Nugnes uomo vicino al responsabile regionale di azione Giulio Cesare Sottanelli lo ascoltiamo nasce a fondare radici in un percorso ormai di qualche anno con la spinta dal basso di giovani di imprenditori di operatori turistici ma anche di persone che hanno dato la vita per la politica rosetana la loro fiducia nei miei confronti mi ha spinto ad andare a testa alta e a credere in questo progetto a costruire una candidatura fatta di liste civiche e di liste che vogliono mettere a servizio competenze tempo e generosità per la città di Roseto credo che da professore di matematica non posso illudere i rosetani di una vittoria al primo turno anche se me lo auguro perché ovviamente sarà un mese di campagna elettorale per cercare di avere la fiducia del maggior numero possibile in ogni caso credendo di poter arrivare al ballottaggio crediamo che sui progetti sulle idee sui valori e su ciò che semineremo in questo mese si potrà costruire una vittoria a prescindere da apparentamenti a prescindere da accordi che comunque si valuteranno solo nel caso in cui saranno proposti e soprattutto su delle tematiche e su dei progetti seri e il basso il debrando d'Arcangelo il nuovo direttore della scuola civica di musica e teatro di Montesilvano la scuola potrebbe essere spostata a Villadelfico che nelle intenzioni dell'amministrazione diventerà un polo culturale sono molto fiero e felice di poter dare fare alla città i 32 anni di bagaglio culturale e spero di poter trasmettere qualcosa di veramente positivo artista di fama internazionale cantante lirico che si è esibito sui più importanti palcoscenici al mondo dalla scala di Milano all'Opera di Parigi fino al Met di New York il debrando d'Arcangelo torna a Montesilvano sua città natale nelle vesti di direttore della scuola civica di musica e teatro succedendo a Gianni Scannella mi sono commosso quando il sindaco mi ha fatto questa proposta e a dire la verità io di emozioni ne ho provate tantissime nel campo internazionale i grandi teatri i grandi direttori d'orchestra però esercitare a casa ha un altro valore un valore che non si può descrivere cioè casa mia a febbraio la scuola compirà 25 anni di attività è suddivisa in tre dipartimenti musica classica moderna e teatro e conta oltre 100 iscritti dal primo ottobre riprenderanno le lezioni al Paladin Martin ma obiettivo dell'amministrazione è quello di ristrutturare Villa Delfico trasformando il palazzo storico di Montesilvano in un polo della cultura spostando lì la scuola oggi abbiamo voluto fare un regalo alla scuola ai docenti ai ragazzi ma anche alla città perché abbiamo nominato come direttore artistico un grandissimo artista cantante lirico a livello internazionale che è il De Brando d'Arcangelo sarà veramente importante questa nuova come dire dimensione artistica che vogliamo dare alla scuola di impulso e ovviamente anche di opportunità per gli studenti ma anche per i docenti per una crescita anche internazionale adesso apriamo la pagina di sport calcio di serie C designazioni della terza giornata Pescara-Vispesero affidata a Emanuele Frascaro di Firenze e Modena-Teramo a Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto intanto due vittorie quasi in fotocopia consegnano il primato solitario del Girone Bial Pescara unica squadra a punteggio pieno ma sono ancora tanti gli aspetti dove lavorare e alcuni atteggiamenti leziosi non sono piaciuti all'allenatore Euteri che nel frattempo a Carrara ha fatto subito debuttare gli ultimi arrivati Clemenz Rauti e Rizzo Andrea Costantini due giornate di campionato 180 minuti giocati e il Pescara è già solo in testa della classifica a punteggio pieno un dato incoraggiante che può aiutare la squadra a lavorare meglio e a dare positività all'ambiente ma che non può e non deve fare minimamente pensare che tutto sia facile le due vittorie con Ancona Matelica e Carrarese hanno messo in evidenza il potenziale del Pescara la voglia di vincere le partite nel finale ma anche che i margini di crescita sono enormi e dal punto di vista tecnico-tattico con la necessità di assimilare i concetti di Auteri e dal punto di vista mentale aspetto questo sottolineato dallo stesso tecnico quando ha parlato di una squadra che si è specchiata troppo anziché infliggere nel momento più propizio il colpo di grazia agli avversari un copione che si era già visto con l'Ancona Matelica anche in questa ottica va vista la sorprendente mossa dello stesso Auteri di cambiare l'intero tridente e l'intervallo nessuna bocciatura tecnica ma un forte segnale ad avere un atteggiamento di chi vuole chiudere la partita senza rilassamenti che possono essere delle Teri la partita di Carrara ha segnato anche il debutto degli ultimi innesti di mercato da Clemenza titolare e cambiato all'intervallo a Rauti entrato a inizio ripresa fino a Rizzo il cui impiego ha portato all'accambio di modulo col passaggio al 4-3-3 Rizzo che ha chiuso la partita da terzino sinistro per l'espulsione di Inzita non vedevo l'ora di arrivare qui perché è stata una trattativa molto lunga poi alla fine meno male si è sbloccata e sono venuto qua dai sono molto contento e qui abbiamo fatto ho portato bene dai è andata bene abbiamo vinto una grande battaglia però già domenica ci spetta un'altra tutte le partite saranno difficili perché la Lega Pro è un campionato durissimo noi dobbiamo andare in campo come siamo andati oggi con Grinta e con le cose che abbiamo fatto col mister e abbiamo portato a casa una grande vittoria c'è stata una telenovela Giuseppe che è durata tanti giorni 15 giorni che cosa è successo in quei giorni si aspettava che la Triestina potesse prendere un altro giocatore del tuo ruolo probabilmente era quello il problema sì sì abbiamo aspettato io quando ho saputo del pescaro ho detto subito sì poi ho aspettato la Triestina per liberarmi poi c'è stato un po' di gasini perché poi si è fatto male un mio compagno la Trieste e poi si è fatto l'ultimo giorno per fortuna è andato tutto bene andiamo in casa Teramo adesso arrivato all'ultimo giorno di mercato Simone Rosso ha fatto domenica il suo esordio con la nuova maglia il rapporto con il tecnico Guidi ha agevolato la trattativa ma l'ex casertana spiega anche il percorso che l'ha portato fino al bianco rosso però che comunque io per tutte le state sono stato in contatto con il mister avendo già l'ordio avuto a caserta gli ultimi sei mesi dello scorso anno no diciamo di no perché comunque ha sempre le stesse idee che comunque si sposano con i giocatori che io sono quindi non ho cioè non ho fatto alcuna difficoltà ad apprendere i concetti le idee che c'ha perché comunque l'ho già avuto so che cosa vuole so che cosa chiede e quindi penso che comunque anche il mio inserimento non abbia avuto tante difficoltà c'è sotto c'è sotto aspetto del gioco perché comunque è un sistema di gioco con idee e concetti che già conoscevo sono arrivato qua da poco sì però mi sento già parte integrante di questo gruppo che è formato da uomini veri da giocatori forti mi hanno tutti facilitato cioè comunque il mio ingresso in squadra sono stati tutti eccezionali e di questo vi ringrazio secondo me siamo una squadra che ha tanti valori ha tanti valori penso che comunque anche domenica con i Siena l'abbia dimostrato perché secondo me abbiamo fatto una partita coraggiosa dove ci è mancato il gol e basta perché comunque sotto il punto di vista del gioco siamo stati molto superiori rispetto a loro che comunque vivevano di folate di giocate individuali secondo me non dobbiamo avere cioè non dobbiamo avere limiti perché comunque con il lavoro e con la dedizione e con il sacrificio si possono ottenere ottime cose e che soprattutto c'è dei grandi risultati e quindi io sono molto ambizioso credo nel lavoro che credo anche nella fatica e quindi penso che comunque questa squadra si possa si possa togliere tante soddisfazioni Simone tu sei uno di quei giocatori con un curriculum alle spalle più importante sei cresciuto nel Torino se non ricordo male poi hai fatto la Serie B con il Brescia e poi Serie C pensi di aver raccolto fino a questo momento quello che avresti meritato oppure magari per essere ancora a livelli più alti ti è mancato qualcosa in determinati momenti della carriera bella domanda come posso rispondere io mi sono sempre detto che c'è nella vita come nel calcio in questo lavoro che è importante non avere rimpianti perché alla fine noi viviamo di questo e tutta la mia vita il calcio sì è logico avendo avuto un percorso a livello c'è di giovanile importante che comunque sono cioè sono subito andato a fare la Serie B dopo la primavera pensavo di cioè di poterci rimanere poi magari ho fatto delle scelte sbagliate che non mi sono che non mi sono state cioè diciamo aiutate perché io quando ero sceso dalla Serie B sono comunque andato in una piazza come Alessandra che a gennaio aveva 12 punti di vantaggio quindi lì purtroppo avevamo perso un campionato sono uno che non crede molto nella fortuna però diciamo che alcune scelte potessi tornare indietro sicuramente non fare la scelta di scendere di categoria ecco e adesso parliamo di Serie D perché è ufficiale la composizione dei nuovi girone e dunque anche del girone F quello che riguarda le nostre squadre abruzzesi sarà a 18 il girone c'è al momento una casella mancante come vedete attualmente c'è una X che sarà con ogni probabilità la San Benedettese il Tar del Lazio infatti ha accolto l'istanza di Roberto Renzi per l'ammissione della società in sovrannumero proprio al campionato di quarta serie andiamo a vedere la composizione del raggruppamento che vedrà sei formazioni abruzzesi al Via ci sono sei marchigiane Alma Juventus Fano Castelfidardo Montegiorgio Portodascoli Re Canatese Tolentino ma potrebbero come detto diventare sette con la San Benedettese le abruzzesi Castelluovo Chieti Nereto Pineto Notaresco e Vastese una Molisana il Vasto Girardi due Campane l'Aurora Alto Casertano e il Matese e due Laziali ovvero l'Atletico Termefiugge e il Trastevere peraltro il Dipartimento Interregionale oggi ha sorteggiato il turno preliminare gli accoppiamenti e il turno preliminare di Coppa Italia di domenica alle ore 15 per la Coppa Italia di Serie D giunta alla ventunesima edizione l'unica bruzzese in campo sarà il Nereto che giocherà in trasferta domenica pomeriggio alle 15 contro il Porto d'Ascoli sarebbe dovuto scendere anche il Chieti ma siccome è stato sorteggiato con la X questa è una partita che è stata rinviata a data da destinarsi turno preliminare domenica dunque il 3 novembre i 32esimi di finale per arrivare alla finale in campo neutro il prossimo 22 maggio mentre il campionato inizia domenica 19 settembre parliamo di vera adesso domenico l'amante 16enne atleta della Lega Navale Italiana di Pescara ha ottenuto a Cagliari il titolo di campione italiano under 19 nella classe Laser Radial dopo le due ottime prove dopo le due ottime prime due giornate di gara e problemi nella terza l'amante si è imposto con una gran prova nel quarto e ultimo giorno avendola meglio anche del campione del mondo di categoria è stato un campionato lungo sicuramente quattro giorni di regata sono sempre impegnativi le condizioni del tempo hanno permesso di disputare quasi tutte le prove del campionato quindi comunque c'è stato un bel confronto in una flotta molto competitiva come quella del Radial è stato un campionato difficile ovviamente è iniziato bene ed è finito bene mantenuto la prestazione quali sono le caratteristiche che secondo te in base alla tua esperienza da campione italiano campione italiano sono le cose che servono per emergere sull'asero per essere un buon laserista più l'aspetto fisico più l'aspetto mentale la tattica l'aspetto fisico e mentale sono fondamentali per questa classe che si chiede tutte e due molto importanti comunque solo da tutto per continuare a crescere sempre bisogna amare quello che si fa per lavorare tutti i giorni e migliorare su ogni aspetto cosa vuoi fare da grande? sicuramente inseguire il sogno del velista e cercare di continuare e questo era il nostro ultimo servizio i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma youtube e anche sul nostro sito web www.tv6.it questa sera vi ricordo l'appuntamento delle 21 con Proteramo un'ora per analizzare il campionato dei biancorossi di Federico Guidi l'aggiornamento con il nostro TG6 torna invece alle ore 23 grazie per l'attenzione e buona serata grazie per la visione